Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuti a una nuova puntata abbiamo ospite una doppiatrice, Silvia Abati Ciao a tutti A questo punto la domanda solce spontanea Per chi non ti conosce, ma pochi non ti conoscono Come descrivesti Silvia? Allora io in realtà ho cominciato da pochi anni Quindi sono in realtà da pochi anni in questo mestiere Per questo ti ringrazio di cuore per il complimento Ma di strada ancora ce n'è, ce ne sarà tantissima da fare E ho cominciato nel 2019 a lavorare costantemente Però appena finita scuola ho provato a buttarmi direttamente su questo mestiere E quindi è da 2-3 anni in realtà che ha preso a diventare proprio un lavoro al 100% Quindi praticamente tutti i giorni siamo in sala Ed è una delle soddisfazioni penso più grandi che potessi avere Cioè c'è poco da dire al riguardo Ricordiamo che il mondo del doppiaggio deriva da una specializzazione al mondo attoriale Quindi bisogna studiare e fare tanto lavoro e tanta pratica Sì, 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 è fondamentale E più che altro io durante il liceo ho fatto teatro Ma in realtà non l'ho fatto pensando al doppiaggio in futuro Quindi ho fatto teatro per una passione personale Per anche, essendo una persona di base molto timida Il teatro mi ha aiutato tantissimo Non solo a livello di recitazione Ma proprio in generale ad aprirmi al mondo E quindi mi è stato utile sotto ogni punto di vista Però poi quando ho finito la scuola ho detto Senti, voglio fare questo salto nel buio Voglio provare con il doppiaggio Vediamo come va Quindi dopo il teatro ho fatto corsi di doppiaggio E da lì poi piano piano ho cominciato a lavorare in questo ambito Però ci vuole tanto, tanto, tanto studio Quello è costante E anche una volta che si comincia Bisogna proseguire assolutamente con gli studi Che il bello è che non si smette mai di imparare In questo mestiere Quindi è bellissimo anche per questo E quando riguarda le emozioni Qua è stata la prima emozione che hai provato La prima volta che ti sei trovato davanti al Leggio Con il primo Chuck La prima luce rossa Perché in passato esisteva la luce rossa Si accendeva e tiravano il via Qual è stata la prima sensazione che hai provato? Allora io ero terrorizzata a dir poco Perché ovviamente con i corsi Diciamo tu sei introdotto all'interno già della sala Sai come funziona Però quando ti trovi lì Proprio per fare un turno È un'esperienza completamente diversa E infatti il primissimo turno che ho fatto È andato così così Perché ero bloccata Completamente terrorizzata E quindi diciamo Si sentiva molto questo blocco Perché ovviamente lì La prima volta Il microfono davanti Il buio Il silenzio Ovviamente creano un'atmosfera Che lì per lì Ti lascia un po' di ansia Ecco Però poi negli anni Quell'atmosfera invece ho imparato Ad amarla tantissimo Perché si spengono le luci Si accende quella lucina rossa Che dicevi tu della registrazione E lì poi capisci di trovarti nel tuo mondo E quindi sono contenta negli anni Ecco di non vederlo più come una minaccia Ma come un segno positivo E invece il direttore di doppiaggio Che chiaramente ti coordina Ti dice le poche cose essenziali Perché a volte non c'è neanche tempo Di descrivere perfettamente il personaggio Però qual è il consiglio Che finora ti hanno dato Come direttori Nel mondo del lavoro E che ti porta adesso Che ti si accorta Che ti ha fatto anche crescere Professionalmente Allora il consiglio Che mi hanno sempre dato Ma già a partire Anche dai primi corsi Di doppiaggio che ho fatto È il guardare costantemente L'attore che si doppia È fondamentale Non perdersi neanche una virgola Di quello che fa Il respiro Un cambio nello sguardo Nell'espressione È fondamentale Tanto che Mi dicevano sempre Tu non guardare Nessuna parte del viso Se non gli occhi Dell'attore Che è lì Dove si racchiude Poi dove si racchiudono Poi tutte le emozioni Che vanno replicate Poi con la propria voce E quello Certo è complicato All'inizio Perché Hai il copione davanti Hai il personaggio È complicato Riuscire a seguire Ogni singola cosa Poi però nel tempo Diventa un'abitudine Però la cosa Che non mi dimentico mai E che Mi è stata poi di aiuto Anche Negli anni In questo mestiere È proprio quella Di osservare D'attore Costantemente Non bisogna perdersi Proprio neanche Una virgola Di tutto quello Che fa In modo tale Poi da riproporlo Perfettamente Nel doppiaggio E invece Hai fatto Diversi film Tra cui Guardiani di Galassie Tra i vari Tra i Anche Anche Simson Non dimentichi Perché Si passa Da un film All'altro A volte Qualche tuo collega Mi diceva A volte Stare in una sala Fare il doppiatore È come essere In una seduta Di uno psicoanalista Dove la mattina Sei un personaggio La sera Sei un altro Nell'intermezzo Sei un altro personaggio Cioè vivi Tante vite Tante espressioni Ma in realtà Sei solo sempre te E però Riesci a dare vita A tanti personaggi Sì 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 Ma penso sia Ecco questa La parte più divertente Poi del Del doppiaggio Perché Come dicevi La mattina Fai magari Un cartone animato Quindi Fai un personaggio Divertente Simpatico Poi Vai un po' avanti Arrivi al turno Magari nel pomeriggio E fai una serie tv Drammatica Quindi Ci sono questi cambi Pazzeschi Che poi Però Ti rendono Ecco Il lavoro divertente Perché È bello Che spazi In qualsiasi tipo Di emozione Quindi È bellissimo Io Penso sia una delle cose Più belle Poi di Questo mestiere Il poter variare Così tanto E spaziare Anche un po' Nel mondo Delle emozioni Che tante serie Film Poi ci Propongono Ma citando appunto De Simpsons Ma in quella serie Poi ho incontrato Sicuramente Hai incontrato Personaggi Come Monica Ward E tanti altri Personaggi Sì Sì Cosa Cosa ricordi Di quel momento De Simpsons E cosa ricordi Poi di altri film E c'è C'è Qualche film O qualche Battuta Che ti è rimasta Impressa Ma soprattutto Perché è stata Difficile In quel momento Ma poi nel tempo Ti sta contando Difficile Allora Dei Simpsons Ricordo che A parte mi sono divertita Tantissimo Perché Monica Ward È fantastica Lei dirigeva Ovviamente Anche Anche proprio Il cartone Ed è una persona Che ti fa proprio Divertire Quando sei lì Quindi ti mette A tuo agio Ti Ti dà delle indicazioni Ma sempre in modo divertente Quindi È stata Un'esperienza Bellissima Poi Io come Tanti magari Della mia generazione Sono cresciuta Con i Simpsons Quindi Avere la possibilità Di fare un personaggio Lì Per me è stata Un'emozione Grandissima E quindi Ho veramente Un bellissimo ricordo Di quel giorno E Niente Quindi È Veramente Lo ricordo Proprio con Con tanto affetto Anche nei confronti Di Monica Che Inizialmente Ecco Era un po' Agitata Per Insomma Doppiare Un personaggino Nei Simpsons Comunque per me Era una grande opportunità E poi invece È andato tutto Benissimo E lei Una direttrice Poi Semplicemente Straordinaria Quindi Devo dire È Un Diciamo Un prodotto Che ricordo Con Con tanto affetto E Mentre Per quanto riguarda Un film Che trovai Particolarmente Difficile Da doppiare Fu World War Z Che Io In realtà Facevo Doppiaggio Ma veramente Da pochissimo E vinsi Il provino Per Per un personaggio Nel film E Avevo Undici Dodici anni Quindi ero Veramente piccina E Ricordo Che quel turno Fu difficilissimo Perché Ovviamente Poi il doppiaggio Di un film Che andrà In sala Al cinema È fatto Con Una meticolosità Ancora Più grande Rispetto A una serie Dove comunque Ci si mette Sempre un'enorme Quantità Di lavoro Però ovviamente Un film al cinema Va curato Proprio nel Più minimo Dettaglio E Quindi Mi ricordo Che fu Veramente Un turno Difficile Da Gestire Battute Che non venivano Per esempio Nei primi anni Avevo difficoltà Con Il GL La I E non mi veniva Perché essendo romana A me veniva da dire I E Quindi Mi ricordo ancora Che siamo stati Penso Non so quanto tempo Su questa battuta Che mi ricordo Era Svegliati Io dicevo Svegliati E quindi Siamo stati Tante volte Guarda che si dice I Io E Quindi E quindi Insomma Poi da lì È stato Adesso lo ricordo Ovviamente Con Con Un sorriso E Poi da lì Insomma Ho imparato Tra le varie Anche Come si pronuncia Correttamente La Io È facile Secondo te Visto che Da un Pazzonaggio Reale Dove in realtà È molto più espressivo A un cartonimato Dove in realtà Nella lingua originale Il testo viene fatto Prima del fumetto Cioè La remiazione In quel caso Poi dovete adattare È È più facile Fare il film O un cartonimato In il caso tuo Allora Secondo me Quando si ha Il L'attore davanti È Il lavoro È Molto più semplice Secondo ovviamente La mia esperienza Poi magari Altri colleghi La penseranno Diversamente Però Avere un attore Di riferimento È molto diverso Da Quando hai Magari Il cartone Animato davanti Che sono solo Bozzetti E Quindi tu Non vedi Effettivamente Che cosa Fa il tuo personaggio Non Non vedi Quando apre la bocca Non Senti solo Quello che è Magari Se è già stato fatto Il doppiaggio inglese O addirittura Se non è stato fatto Alcun doppiaggio Il lavoro Diciamo È ancora più complicato E quindi Io personalmente Mi trovo meglio A doppiare Film Dove appunto Hai l'attore davanti E sei in grado Di Diciamo Capire meglio La sua espressività La sua vocalità Rispetto ovviamente A un cartone Che magari Ancora non è stato finito Ancora non è stato realizzato E quindi Hai davanti Solo dei bozzetti Ed è lì Secondo me È più complicato Sicuramente Come fan Come Anche se sei Una loro collega Ti è capitato Entrare in una sala O comunque Ascoltare una voce A distanza E dire Quello è il personaggio In cui Mi piaceva tanto Da bambina E Adesso ti giri Poi Hai la sensazione Poi non lo chiami Però vorresti chiamarlo Col nome del personaggio E dirgli Scusa ma Sei te Poi Chiaramente Lo chiami come collega Però in quel momento Ti viene la sensazione Sì 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 Assolutamente Ma ogni tanto In alcuni studi Mi capita Di incontrare Dei colleghi Che Io ecco Magari hanno fatto La mia infanzia E Quindi quando li vedo Dal vivo Dico Oddio ma Davanti ho Un idolo Ed è Bellissimo Poterli anche Incontrare dal vivo Poi sì è vero Ti viene la voglia Di chiamarli Con il nome Del personaggio Diciamo Più conosciuto Che doppiano Effettivamente Li ricolleghi Sempre A quello Però Sono dei colleghi Che stimo Veramente Tantissimo E spero ecco Con tutto il lavoro E l'impegno Di poter un giorno Arrivare Insomma Ad essere ecco Come Come loro Perché Veramente Quello Hanno fatto Veramente L'infanzia Mia E di tanti Ragazzi Della mia età Quindi Sono Dei colleghi Ma in generale Proprio delle persone Da Da stimare Quindi è sempre Un'emozione Poi vederli Dal vivo Prima hai citato Gli occhi Osservare Il personaggio Gli occhi Ti è capitato Di accoggerti Che con gli occhi È rubato Facendo tuo Un modo Che però È adattato Alle tue caratteristiche Di altri colleghi Che Involantemente Poi ascoltandoli Hai saputo Migliorare E infatti Migliorare anche a te Sì Allora Ascoltare Soprattutto Ecco Le grandi voci Del doppiaggio È fondamentale Perché da loro Bisogna Secondo me Assorbire Proprio come una spugna Perché anche Solo il parlarci Anche solo Incontrarli E sentirli parlare Appunto Del mestiere Già quello Ti fa capire Che Veramente Sono dei Grandi mostri Del doppiaggio E Quindi Loro Sono veramente Degli esempi Da Prendere E Quindi Ascoltarli Soprattutto In molti prodotti Che hanno fatto Secondo me È fondamentale Perché Puoi capire Delle tonalità Che usano Perché usano Quel tipo di tonalità Se capita Anche Anche anni fa Si poteva Addirittura Assistere Ancora Ai turni Di doppiaggio Anche Di grandi Doppiatori E io Fortunatamente Ho cominciato In un periodo In cui era ancora Possibile Assistere Ai turni Di doppiaggio E Ho assistito In sala Con doppiatori Magnifici E Lì ho detto Cavolo Sono pazzeschi Voglio farlo Anch'io Così E Quindi Insomma Sono Veramente Da prendere Come esempio Però Diciamo La cosa importante È Il cercare Di non imitare Una Una certa voce Perché Ovviamente Ognuno Di noi Ha Una propria Tonalità Quindi Diciamo Cercando Di imitare Secondo me Un altro Doppiatore Si finisce Poi per Cambiare Un po' Quella che Poi è La nostra Originalità Quindi Sicuramente Da loro C'è Tantissimo Da Apprendere Però Allo stesso Tempo Credo Sempre Sia Fondamentale Cercare Di trovare La propria Originalità Allora Allora A questo Ti faccio La domanda Il momento Qual è il rischio Che ci sia L'intelligenza Artificiale Che mai Di moda Questa domanda C'è un rischio Che effettivamente Il doppiaggio Ne possa Essere Anneggiato Ma un po' Tutti i settori Questa Intelligenza Sì Diciamo Ovviamente Rappresenta Sicuramente Una preoccupazione Perché Effettivamente L'IA Comunque Sta Prendendo Vari Settori Tanti Tantissimi Settori Quindi Ovviamente La preoccupazione Anzi Addirittura Ecco Visto Insieme Ad altri Colleghi Delle IA Che provano Hanno provato A riprodurre Voci Di grandi Doppiatori E devo dire Che il risultato Era abbastanza Preoccupante Ma Allo stesso Tempo Però Pensandoci Un IA Può replicare Sicuramente La voce Di un doppiatore Però La passione Che c'è Dietro Un mestiere Un intelligenza Artificiale Io non credo Che possa Replicarla Quindi Io Insomma Spero Ovviamente Con tutto il cuore Che Diciamo Rimanga Solo Un Come dire Una Intelligenza Artificiale Utilizzata Magari Per altri Scopi Però Non Diciamo Senza Diciamo Intromettersi In mestieri Che poi Girano tutti Intorno Alle emozioni Delle persone E Un IA Un'emozione Non credo Possa Riprodurla Come Quella Di un essere Umano Quindi Diciamo La preoccupazione C'è per il futuro Però Allo stesso Tempo Ecco Magari Pensandola In questo Modo Forse Il rischio Non è così Grande E invece Il consiglio Che ti ha dato Il babbo Che Chiaramente Non vuole Intromettersi Nella tua vita Però Qualche piccolo Consiglio Qualche Battuta Che poi L'ho risultato Un pochino Più che Il consiglio È lì L'ha fatta lì Involontariamente Ma Ti è stata Anche utile C'è Sì Lui Premetto È stato Una Una guida Ed è ancora Una guida Per me Fondamentale Perché Ho anche Devo dire Proprio la fortuna Di avere a casa Poi quello che può essere Un insegnante H24 Quindi Per qualsiasi Dubbio Qualsiasi Anche preoccupazione Riguardo al lavoro Io mi Da tutta la vita Quindi Diciamo E anche Un po' Un supporto Da questo Conto di vista E Da subito Quindi Da quando Ho cominciato A voler intraprendere Questa carriera Lui mi ha detto Sempre Studia 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 Che sembra Una banalità Ovviamente Certo Uno in qualsiasi mestiere Deve studiare Deve aggiornarsi Però Io Per lì Ero anche Più piccolina Pensavo Dico sì Studiare Però Dai Poi Ci si riesce E invece Lui mi ha insegnato Davvero La costanza Nello studio Che deve essere Veramente Uno studio Approfondito Costante Quindi Non smetterò Mai di ringraziarlo Per avermi poi Indirizzata Così bene In un mestiere Ma anche Cautamente Perché prima Di cominciare Comunque Ci siamo tutti Voluti assicurare Che fossi Pronta Anche per Per cominciare Insomma A fare questo mestiere E Quindi Veramente Mio papà Lo dovrò ringraziare Sempre Perché È una guida Sia nella vita Sia nel lavoro Quindi È veramente Fantastico A dire poco La prima volta Che l'hai sentito È visto Il video Dicendo Ma Poi l'hai guardato E gli ho detto Ma sei Sei te Qual è stata La prima sensazione Che hai provato In quel momento Perché Chiaramente La voce È lui Ma il personaggio Non è lui Perché ce l'avevi accanto Qual è stata La tua sensazione Allora Io ero Molto piccolina Quando successe In realtà Avevo Sei anni La prima volta Che lo senti Su un prodotto E Magari Era Forse sì Ero piccolina Quindi non capivo Però Dicevo Scusami Ma Quello ha la tua voce Però Tu sei qui Quindi Com'è possibile Non sei tu Quell'attore Però ha la tua voce E E lui Mi ha spiegato Ovviamente Come si spiegherebbe Poi a una bimba Piccolina Un po' In cosa consisteva E Io lì per lì Ho pensato E' pazzesco Ma che bello Quindi non è lui Ma dà la voce A un attore Bellissimo E Quindi Sicuramente Mi aveva sorpresa Ecco E' carino Vedere poi Immagino La reazione Di un bambino A una cosa del genere E Quindi Si ero Molto molto sorpresa L'ultima curiosità Girando le fiere Perché Voi fate le fiere Siete Le persone Che incontri Ti fanno domande Particolari Oppure Soltanto Ti fanno i complimenti Soprattutto anche perché Presenti anche In cosplay In molti casi Ti presenti Sì 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 Ma Allora è bello Vedere che Tante persone Sono incuriosite Dal Dal mondo Del doppiaggio E Perché ci lavora E' un onore Grandissimo Perché è bello Sapere che ci sia Così tanto interesse Intorno A questo mestiere E Fanno Tantissime domande Ed è bello Anche poter Dare insomma Delle Delucidazioni Che comunque Ovviamente Ha domande Che loro Ti pongono E E' carino Quando ti chiedono Ma Mi dici Una frase Da doppiatrice E' divertente Perché Dico ma E' la mia voce Nel senso Non c'è una voce Da doppiatore E' la voce Normale Della persona Quindi E' molto carino E' molto carino Oppure ti chiedono Mi dice questa frase Qui Così ma Te la dico Normalmente Nel senso Come la direi Nella vita Reale Però E' bello Io trovo Sempre bello Conoscere Anche chi è appassionato Di questo mestiere O anche Dare una mano Magari a ragazzi Che si approcciano Per la prima volta A questo lavoro E trovo sia Bellissimo Comunque Poter dare Qualche consiglio Anche un piccolo aiuto Insomma A chi appunto Si approccia A questo mestiere E Insomma Penso che poi Siamo un po' tutti Sulla stessa barca Alla fine Quindi Insomma Mi fa piacere Anche quando Magari i ragazzi Più giovani Ti chiedono qualche consiglio Qualche dritta Su come cominciare Sempre bello Vedere Ecco che ci sia Tutta questa passione Anche Da parte Di tante persone Dando io ti ringrazio Grazie a te È bello ascoltarti E sentirti Soprattutto perché Lo rappresenti Con quella gioia Degli occhi Perché Prima parliamo Degli occhi E nei tuoi occhi C'è tanta gioia Che a noi Ci hai lasciato Senza parole A questo punto L'unica cosa Che posso chiederti È i saluti finali Essendo che poi I tuoi personaggi Hanno tutti La stessa voce A questo punto Ti chiediamo soltanto I tuoi saluti personali Allora innanzitutto Saluto voi Per te Per avermi dato Ovviamente Caro la possibilità Di comunque poter essere Intervistata Insomma Ti ringrazio di cuore Veramente Sono stata felicissima E poi I miei saluti Vanno come sempre Sia ai miei colleghi E amici E ai miei genitori Che poi Alla fine Ci sono sempre loro A dare sostegno Studio 7 TV E Sport Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata Ospite della puntata Ospite della puntata Ospite della puntata Ospite della puntata